Zoe, oggi dobbiamo uscire da questa prigione, ma con un'eccezione, avrò dei cuori personalizzati, che mi permetteranno di fare tutto quello che voglio, adesso sto per prendere il primo, sei pronta? Oh sì, prontissima! Ok, preso, e vediamo cosa accade, se la bevo, oh, wow, guarda! Oh, velocissimo! Vado velocissimo, dai Zoe, sbrighiamoci, non abbiamo tempo da perdere! Oh cavolo, aspetta, continuo a cadere io, sarebbero, cioè, non sono proprio dei cuori personalizzati, però sarebbero come dei cuori personalizzati, perché se ci pensi sono praticamente potentissimi! Boom, eccomi qua! Ok, io ho scelto la modalità difficile, quindi ci sono tutte le cose difficili, infatti sono morto, cacchio, ci riprovo! Oh, io sono inface! Oh cavolo, sembra più difficile il fatto che abbia la velocità che il fatto che, non lo so, è... È difficile! Esatto, oh no, aspetta, la ribavo di nuovo! Ok, ci sono, ah, 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 ok, ah, ok, ah, eh, ah, ok, ah, eh, ah, ok, eccomi qua! Ottimo, molto bene, rimanete ragazzi perché voglio prendermi anche questo qua, use this drink to make... Oh, la gravità! Cosa? Oh! Ah, praticamente è come se tipo andassi tipo, non lo so, nella gravità del lunare! Oh, cosa? Non è possibile! Oh, che è successo? Ah, ok, è alternato il mio! Ok, uno! Ah, com'è possibile questa cosa? Oh cavolo, cavolo, non dovevo scegliere la modalità difficile, lo sapevo io! Ok? Vai, vai, vai! Mannaggia! Oh! No! Sai cosa? Adesso io so come fare! Ah, ah, mi prendo questa qua e vediamo cosa accade! Pronti ragazzi? Oh mio Dio, la gravità cola! Ok, vediamo cosa accade! Ok, la provo, eh! La bevo, eh! Wow! Wow! No! Ok, ci riprovo! Opla! Opla! Oh, ci sono riuscito! Cos'è successo? No! Cavolo! Cavolo, Zoe! Guarda, adesso gli bevo tutte e due le pozioni e vediamo cosa accade! Ok? No, no! Ho capito come fare, ho capito come fare! Vai, vai! Non dovevo misaberle proprio in questo momento! Magari dovevo aspettare un po' di tempo! Ora! Opla! Opla! Ok? Oh, ci abbiamo fatto! Robiti, robiti, robiti! Ma si rompe, Zoe! Con la cacciavite, con cosa, con la chiave inglese! La chiave inglese è qua! Aspetta! Eh, tu non lo sai, ma io c'ho delle mine qua sotto i miei piedi! Ah! Sì! Ok! Ah! Spaccati, spaccati! Ok, bene, perfetto! Ok! Ah, bello! Sono troppo veloce per te! Ci vediamo! Ciao, ciao! Ah, ah! È bellissimo utilizzare questi moteri, Zoe! E tu non ne hai idea! E immagino, lo vedo! Che divertente! Aspetta! Guarda! Ho fatto con un solo salto e sono arrivato praticamente sopra il coso! Ehi, bello, vuoi prendermi? No, mi prendi? No, mi prendi? Sono più velocita! Wow! Oh, mannaggia! Dovevo fare prima qua! Sì, certo, Zoe, te lo dimentichi! Guarda, sono arrivato in questo! Guardi, attivo sempre! O con un solo salto sono riuscito a saltare sopra le tubature! Che schifo, ma questa polizetta continua a fare dei piri, tipo un solente! Eh, lo so, Zoe, devi stare attento! Oddio, ma ci stanno un sacco di poteri ancora che posso sbloccare! Dai, vieni, che abbiamo tanta strada da fare! Arrivo! Tu non lo vedi, ma praticamente stai passando attraverso un laser mortale in questo momento! Andiamo! Oh, aspetta che io sono lento a scendere perché c'è il potere! Ok? Molto bene! Adesso andiamo qua! Scava, scava, Zoe, scava, scava! Scavo, scavo, scavo! Oh, my God! Ok, eccomi! Oddio, guarda! Ma posso sfruttarlo un sacco! Ciao, Zoe! Eh, vabbè, ciao! Guarda, ho fatto con un solo salto! Guarda, adesso arrivo a rivolgersi te! Ciao! Scusami, hai chiamato? Scusami, là! Sì, ti ho chiamato! Senti, non è che voglio si uscire con me! Oddio! Mamma, mi mancava poco! Mi ammazzavo dalla lava! Oh, bravissima, andiamo! Andiamo! Ok, aspetta, aspetta, aspetta! Oh! No! Questo è complicatissimo! Ma ci riuscirò comunque! Ok, siamo pronti, ragazzi! Ok, fammi bere tutte e due le pozioni qua! Così ho dei cuori personalizzati! E via! Ok! Oh! No, sono morto! No! Dammi tempo! Forse è meglio solo la velocità in questo caso! Hai ragione, forse è meglio! Anzi, no, sai cosa? Forse è meglio non utilizzarli al momento! Ecco! Arrivo! Ok! Ok, ora me li bevo tutti! Ok, pronto! Sì, attenzione, ora c'è la palla! Attenta la palla! Ok! Posso saltarla la palla! Oh, ci provo, eh! Trovo a saltare la palla! Pronta! Aia! Cosa? Ah, ma mi viene pure da dietro la palla! Non ho capito! Da dietro? Oh, non lo so! Sono morto da dietro! No, sto ritornando indietro! Zoe, aspetta! Sono morto! Sono stupido! Non capisco! L'avevo vista dietro la palla! Oh! Ah, perché rimbalza e va dietro la palla! Nella modalità difficile mia! Ah! Sì, 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 sì! Ma io adesso la salterò così! Ah! No, come l'ho detto! Non ci sono riuscito! Peccato! Aia! Mi ha fatto veramente la bua! Oh, cavolo! Ci riprovo! Ok! Intanto ti aspetto! Oh! Ah! Ah! Oh no! Oh no! Aspetta, riesco a saltarla secondo voi! Ah! No! Per pochissimo la saltavo! Zoe, ti giuro! Oh, mannaggia! Ok, va bene! È impossibile saltare la palla! La tranne se non lo fai veramente in un certo modo! Ok! Dai, Scree! Ce la puoi fare! Oh! Eccomi! Oh! Andiamo! Andiamo! Oddio, sono schizzato in aria! Oh no! C'è il tizio, Zoe! Oh no! Di nuovo il tizio! Gesù! 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 Ok! Ah! Sono riuscito! Oddio! Zoe, da me ci sono le palle che cadono! Come le palle che cadono? Ci erano le palle che cadevano! No! Cosa? Com'è possibile che sono ritornato così tanto indietro? Oh mio Dio! Ah! Non posso! Ah dai! Ma mi despaura la palla e poi ricompare! Adesso mi sa che è giunto il momento di comprare, ragazzi, un'altra abilità! È giunto il momento, Zoe! Io ti aspetto! Adesso vediamo cosa posso comprare! Allora, aspetta, ma... No, si è buggato! Come si è buggato? Aspetta! No, mi sono buggato! Oh cavolo, devo fare il reset! Ok, bene, vediamo un attimo cosa posso comprare! Il jetpack! Zoe! Compro, compro, compro! Il jetpack! E' OP il jetpack! Oh, mamma mia! Chissà che cosa farò! Dai! Ok, preso il jetpack! E adesso... In teoria... Oh, Q e X! Oddio, guardate! C'è il jetpack! Posso volare! Aspetta, come vado avanti però? Ah, non capisco! Ah, ok! Oddio, ma è complicatissimo da utilizzare! Arrivo, Zoe! Ti aspetto! Ora sì che posso praticamente... ...saltare sopra le palle! Ok! Ok, sopra, 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 sopra! Dai, sono morto! Non ci voglio credere! Oh, mio Dio! Ci sono! Ci sei? Sono arrivato! Eccomi! Oh, eccoci! Andiamo giù! Guarda, ho il jetpack! Su! Andiamo giù, su, giù! Su, questo nonno! Aspetta, vado su! Ciao, Zoe! Ti vai di con il jetpack? Sì, ti vedo! Oddio! Mi si è buggato l'ascensore, vabbè! Ah, finalmente il mio si è sbuggato! Guarda, ci vediamo Zoe, io volo! Eh, vabbè! Io corro adesso! Vedo che corro, voglio vedere che corri! Vai, 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 corri! Vediamo che arriva per primo! Ok! Eh, vabbè, ma che vuol dire che arriva per primo? Eh, magari sei più veloce di me! Chi lo sa, dai, forza! Non penso! Oddio, oddio, ecco! Ok! Oh, no! No, 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 no! Sta arrivando il prima! Cavolo, 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 cavolo! Corri, corri! Eh, sali le scale! Devi salire le scale! Ah, ma aspetta! Non avevamo detto anche questo! Ah, 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 mi dispiace! Ah! Sei un varone! Ok, eccomi qua! Oddio! Ma mi faccio togliermi il jetpack, però? Aiuto! Non te lo togli! Ah, no, no, no! Voglio togliermelo! Aiuto! Non posso fare nulla, Zoe! Dove è la scala? Non riesco a togliermi il jetpack! Ma come no? No! Aiuto! Vabbè, non te lo togli! Ah, no! Arrivando a fare sempre con il jetpack! Oh! Oddio, ora sto camminando! Non capisco cosa sto facendo, onestamente! Ok, sapete, magari forse solo per questa parte è meglio utilizzare le cose normali! Ecco! Wow! Guardate quanto sono veloce! A prendere la scala e andare via! Andiamo! Andiamo! Aspettate, dobbiamo aprire la cosa! Ci vediamo! Ma vai! Oh! 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 Ho fatto una speedrun, praticamente! sono messo a saltare andai in giro così mamma mia proprio oggi aspettate qua c'è qualcosa che devo togliere perché ho paura che magari avendo il jetpack forse poi non posso ok posso farlo già perché sei gio è arrivo con calma ma non funziona cosa che tu faccio il jetpack buggato come è arrivante tipo sto correndo da jetpack tuttavia perché forse non puoi avere tipo tutti gli effetti del jetpack insieme mi sa mi sa proprio questo vuoi troppo vuoi troppo hai ti aspetto forza mamma mia sembra più lento delle valvole magari correre come test prima sono morto è perché non ci voglio credere no non ci voglio credere perché col salto e tutto il resto non riesco a saltare bene e vado a finire sempre nella morte più certa e quindi ok bene dai ti aspetto dove sei arriva sono nella vecchia vecchia fattoria io io sono più avanti aspettate un attimo ragazzi ti aspetto giochi aspetti il rampino di gata cos'è questo cosa cosa significa tutto questo come io ti asert player guards a bellissimo pure questo ciao ciao gio è andiamo 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 però prima voglio testare un attimo una cosetta cosa dove sei aspetta l'attimo ma cosa accade se tipo dove sei vieni qua se cosa cosa fa non so andiamo andiamo anche per farlo ci sei stato 20 mila ok dai riproviamoci va bene zoe e via io sono dal cuoco già dal cuoco di già porca miseria ora dentro 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 non ci voglio credere questo per la velocità del cavolo che avevo ok sapete cosa uso il jetpack ecco molto più semplice così hai ok adesso devo infilarmi qua per bene ora mannaggia lo sapevo io che ci crepavo ma come fa a morirsi sbrii lascia stare lascia stare e lascia stare ok ok adesso me lo tolgo ora finalmente mannaggia ci sono riuscito arrivo dammi due secondi ecco ti eccomi bella andiamo facciamolo fuori questo idiota velocità nooo dobbiamo prendere fuzzucca ah dov'è dov'è non lo vedo che cavolo è oddio è saltato in aria oddio ma io lo vedo che pure salta in aria zoe oh davvero no 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 ah io l'ho fatto male oh cavolo mi hanno dato la padellata in faccia è vero è vero anche a me mannaggia 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 muori muori idiota posso usare il taser oddio usati il taser oh si funziona col tizio non muori mannaggia si ah ah l'ho taserato bella bro dai zoe ti aspetto ci sei si andiamo oddio non sto neanche usando lo scivolo oddio oh no 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 eccomi ok basta basta non sarà ancora e infatti cacchio ok andiamo 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 cacchio uscita andiamo andiamo oh cos'è questa cosa è molto più complicato questo no sono morto oh no no è stra mega più complicato perché ci sono altri fascini da me vedete i peccettini ci sono altri tipo trappole oh mamma mia e sono più veloci questi così rossi oh no ok niente ho visto tutti i peccettini no oddio stavo morendo ok c'è l'ultimo 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 sì ci sono riuscito mamma mia meno male bravo andiamo speed boost oh no aspetta ma io ho posso fare una cosa posso fare semplicemente così ciao ciao io devo prendere la plug oddio devo spaccarlo ragazzi aspetta col taser funziona pure con lui ok non funziona con lui non funziona con lui non funziona con lui non funziona con lui no non posso morire sono morto a morire sono morto no ok bene adesso utilizzo il jetpack aha vediamo se riesci a prendermi stupido idiota si guarda per terra io tanto c'è il jetpack aha ma come come fa a prendermi scusa non capisco vuoi fortissimo aspetta non capisco vabbè comunque adesso ci riproviamo magari sto sbagliando qualcosa probabilmente sei io dai mori 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 non capisco come fa ad ammazzarmi buta cioè che sei in modalità difficile io ho finito ce l'ho ucciso già eh ma non capisco come fa cioè come vai combatti lo sbri ma no no ma non si vede da nessuna parte che arrivano i colpi mi spara e basta mi uccide e basta basta utilizzi il jetpack per scapparmene via bella ciao bello è stato un piacere fare gli affari con te ciao 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 io ti vedo la volare via sì sì proprio non me ne importa nulla guarda anzi sai cosa Zoe ci vediamo nella zona dell'elicottero va bene ok io vado con la macchina sì fai fai pure fai pure io so guarda proprio me ne sono me ne sono uscito via ciao ciao tanto ciao super mega velocità dunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale lasciate like commentate e noi ci vediamo in un prossimo novissimo video ciao ciao ciao